Ciao ragazzi, ciao ragazze, eccoci in un nuovo video, benvenuti. Dunque, oggi andremo a parlare di tutto quello che è successo ieri. Devo dire che è stato un venerdì davvero scoppiettante e è successa la qualunque, soprattutto all'interno delle quattro mura di casa ad Alimberti. Sono state aperte diverse live, c'è stato un tutti contro tutti, è stata attaccata Eva, Rosaria, Vodka, Fate, e proprio Fate ci ha confessato in live di essere venuta a conoscenza della targa della nuova macchina dei coniugi, quindi ce l'ha mostrata. Ci ha fatto notare diverse incongruenze e da lì, ragazzi, Chiara è esplosa. Secondo lei, quindi, è stata spiattellata nuovamente la sua privacy sul tubo, ha minacciato Fate di andare, insomma, a denunciarla nuovamente. Davide lì è rimasto sconvolto da questa cosa. Ho notato che Luciana non ha proferito parole in quanto non può più partecipare alle live, decisione fresca fresca di Chiara, quindi ne parleremo subito, ed affronteremo in questo video anche il discorso cucina dei suoi cerini. Dato che in chat la signora Daniela ha scritto un commento un po' particolare ed è subito stato notato. Ma andiamo con ordine, perché le cose di cui parlare, ragazzi, sono davvero moltissime. Allora, Chiara, in serata, decide di aprire una live e non la troviamo nella sua solida postazione, ma nella sua camera. E subito, infatti, ci informa che da oggi in poi la vedremo sempre lì a svolgere il suo lavoro, infatti vuole anche allestire meglio tutta la sua stanza. Dice che ha bloccato sua madre da YouTube, che l'ha rimossa da moderatrice sia nel suo canale che nel canale, quello di Daniela, insomma, che le ha cambiato anche Nick. Ora, Luciana non è più nonna Luna, ma si chiama Aether di mia figlia, perché in pratica sua madre sul tubo è una vera e propria Aether nei loro confronti. Dice che si trasforma totalmente, mentre, insomma, nella quotidianità o nella vita reale è tutta altra persona. Dice che non parteciperà più alle live, perché sovrasta continuamente suo marito, lo fa passare da zimbello, quindi lo ridicolizza, e questa cosa non va assolutamente bene. Quindi ha preso questa decisione. Inizia poi a parlare di Eva e di Rosaria. Dunque dice che sono due schegge impazzite. Eva è una bestia, ha un compagno che sembra uno scappato di casa. Sicuramente non l'ha, ma non gli interessa nulla di lei, perché accetta che fa la mistress, quindi schifezze sul web. Se avesse un po' di dignità, dice che non accetterebbe mai una cosa del genere. Però evidentemente chi si somiglia si piglia. Poi passa a Rosaria, dice che è una donna frustrata, perché ha un fidanzato immaginario, dato che ha una relazione a distanza e quindi non può mai vederlo. Quindi sia Eva che Rosaria rosicano, perché a differenza sua non hanno attenzione dai loro compagni. Ad un certo punto poi apre il discorso serena, l'attuale compagna di Giuseppe. Dunque, il giorno prima lei aveva fatto una live in cui prendeva le parti di questa ragazza, quindi la elogiava, la riempiva di complimenti, è bella, è una ragazza seria, una ragazza per bene. Oggi invece lei dice che può confermare solo che è una bella ragazza, una bella donna. Per il resto dice che insomma si è fatta ingannare, perché a quanto pare qualcuno le ha inviato degli screen, anzi dice ha molti screen, in cui insomma Serena seguirebbe tutti i canalacci di Scolo, quindi dice che non è in buona fede, ma conosce tutte le diatribe su YouTube e segue persino chi parla male del suo ragazzo. Poi ha anche scoperto che in passato era un utente sua e di Davide e che tra l'altro avevano anche bloccato, quindi dice che sicuramente è una fan che è impazzita. Lei comunque ora dice che l'ha rimossa anche da Instagram, quindi l'ha bloccata anche lì. Ad un certo punto lei fa anche il dito medio e dice che ora non potrà più spiarla. Dice anche che presto rimuoverà la live che ha fatto un paio di giorni fa insomma per dipenderla. Lei non ha parlato assolutamente bene di Giuseppe, dice che di lui non le importa nulla, aspetta solamente la prossima audienza e che gli venga data una pena esemplare per tutto quello che le ha fatto. Dice che andrà dritta come un treno dato che vuole proteggere se stessa, suo marito e tutta la sua famiglia e dice che insomma che è solo felice che lui si sia tolto dalle bolze e sia andato via da Milano. Ci tiene a precisare che Giuseppe le fa schifo, dice che è una persona obbrobriosa che l'ha minacciata più volte, ha cercato anche di farla fuori, quindi dice che insomma è una diffamazione dire in giro che lei è ancora innamorato di quell'essere. Anzi qualcuno secondo Chiara dice che dovrebbe pensare insomma che è proprio Serena che ha qualche scopo particolare per essersi messa con Giuseppe che quindi in realtà è proprio lei che nasconde qualcosa. Chiude quindi poi il discorso Serena a Giuseppe e ad un certo punto in chat si palesa il parrucchiere di Elisa True Crime e lei dice che vuole assolutamente sapere la verità ossia se Elisa si è rivolta a lei davvero dandole della disagiata. Questa cosa è uscita dalla bocca di Faith, il suo parrucchiere in quel momento era lì in chat e non ha smentito, quindi dice che lei vuole andare fino in fondo a tutta questa storia. Ora lei insomma per colpa di queste voci prova anche un certo astio nel guardare i video di Elisa mentre prima insomma le piacevano un sacco quindi dice che se è vero che Elisa ha detto queste cose toglierà l'iscrizione dal suo canale butterà via il suo libro e si regolerà insomma di conseguenza ma se è un'invenzione la pagheranno tutti molto cara lei di certo non è una donna che si fa mettere i piedi in testa da nessuno. E fin qui ci siamo. Cosa succede dopo? Allora Faith apre una live e dice che le hanno scritto su Instagram quindi qualcuno avrebbe incontrato Chiara e Davide mentre stavano salendo in auto e questa persona appunto avrebbe preso la loro targa quindi ha fatto anche delle ricerche e sono venute fuori alcune bugie. Faith dice di aver appurato il tutto quindi ha controllato personalmente da un'app che è anche sicura e dice che tutti possono verificare questa cosa lei insomma non ha fatto nessuna violazione perché la targa di un'auto è una cosa pubblica il servizio ACI è pubblico quindi nessuno può essere incolpato di aver toccato il privato di Chiara e di Davide. Allora ci mostra quindi che quest'auto è una Fiat Punto del 2003 è un Euro 3 e non Euro 4 come ci hanno sempre detto loro quindi a breve avranno bisogno di una scatola nera non ha fermi amministrativi a 250.000 km ma non risulta il bollo pagato però qui ragazzi ci sono come dire si sono fatte insomma diverse supposizioni perché c'è chi ha detto in pratica che è una macchina d'epoca e il bollo non va pagato ma in questo caso non è d'epoca perché la macchina ha 20 anni non è che ha 30 anni poi c'è anche chi ha detto che con quegli anni si paga solo il 50% chi invece dice che si paga solo una quota di 25 euro se l'auto circola in strada poi qualcuno ha anche notato che queste app non sono poi così affidabili perché anche se viene insomma inserita la targa i dati del volo non vengono rilevati ecco comunque Fiat ci tiene a precisare che non è assolutamente una presa in giro nei confronti di Chiara e Davide perché sono tante le persone che hanno una macchina vecchia e quella purtroppo possono permettersi ma perché continuamente noi insomma veniamo accusati di essere degli invidiosi che lei insomma deve sempre riempirsi la bocca di bugie dicendo che questa macchina l'hanno pagata a 2000 euro quando con questi requisiti è impossibile e soprattutto perché loro si vantano continuamente ostentano cose che in realtà non hanno insomma per apparire quelli che non sono comunque chiuso il discorso auto sempre in questa live è venuto fuori un commento della socerina dunque avrebbe scritto in chat ora non ho capito precisamente dove se nella live di suo figlio o di sua nuora che la cucina gliel'avrebbe comprata il comune quindi non i coniugi e da lì ragazzi gli utenti si sono scatenati cosa è successo dopo? allora dall'altra parte c'era Davide che stava facendo una live in cui delirava ci chiamava tutti i rosiconi diceva insomma che dobbiamo farci vedere da uno bravo che siamo impazziti tutti da quando loro si sono sposati che noi siamo persone non a pagare insomma via dicendo qualcuno ad un certo punto in chat gli scrive questo fatto della signora Daniela dicendo eh ma la socerina vi ha sbugiardati la cucina l'ha comprata il comune non l'avete presa voi e lui gli risponde che sua madre ci ha presi tutti per il culo che non devono dare nessuna spiegazione quindi inizia a dire che facciamo schifo che siamo irrecuperabili perché ce ne inventiamo di ogni e chiede alla signora Daniela di intervenire in chat e di smentire questa cosa tant'è che Daniela risponde che stava solo scherzando e che tutte queste persone insomma fanno pena a dire queste cose e quindi lui lì inizia a bannare chiunque li accusa di essere dei bugiardi cosa succede dopo? ad un certo punto interviene Chiara imbufalita dice a suo marito di trattenersi di non dire parolacce di contare fino a 100 perché ha saputo che quella nana malefica di Fetida ha divulgato la targa della loro auto e sta facendo vedere tutti i loro dati sensibili in live dice che andrà direttamente in caserma a farle un'altra denuncia inizia quindi ad insultarla dicendo che è una merda è una psicopatica dice che il volo loro lo hanno pagato può ad un certo punto minaccia di divulgare i suoi dati le targhe degli altri anche quella del suo amico che sicuramente era riferito a Topolino che io però non ho capito cosa centrasse Topolino in questa storia comunque lei dice che porterà via a Fetida anche le mutande dice che li dovrà pagare per nuovi ad un certo punto inizia anche ad offendere Vodka dicendo che è una merda che è un invertebrato e che si vorrebbe inchiappettare suo marito io uso sue testuali parole e dice che tutti devono sapere che loro sono davvero stalkerizzati che sicuramente quindi qualcuno è andato a fotografarli sotto casa quindi inizia ad urlare chiede poi ad un certo punto a Davide di mutare la live devo dire ragazzi che Davide era rimasto sconvolto cioè si percepeva proprio che non sapeva che pesci prendere qualcuno poi gli chiede insomma perché hanno mentito dato che questo punto è un euro 3 e non euro 4 come ci avevano detto loro e lui banna questa persona dice che non capisce un cazzo e le teste di cazzo lui sul suo canale non ce le vuole dice che sono insomma tutti degli infami che lui non si aspettava questa cosa che sono peggio delle merde poi va a fumare una sigaretta perché è davvero nervosissimo e dice che è stata fatta una cosa gravissima nei loro confronti ne direbbe tante ma insomma sta cercando di contenersi non vuole scendere ai loro livelli e dice che si è superato il limite pensate che poi la socerina gli suggerisce anche di stare tranquillo quindi gli scrive Davide ma stai calmo e lui risponde che in realtà è tranquillo e calmo ma il problema è quando si incazza sua moglie e dice che c'è da avere paura poi torna nuovamente Chiara e dice che vuole fare una live sul suo canale quindi lui deve interrompere e dice che deve anche mandare lo strike a fate perché sta facendo la reaction ragazzi io ho notato una cosa in tutto questo trambusto Luciana non ha proferito parola pensate che io non mi ero neanche accorta che lei fosse sul divano dunque Davide era fuori dal balcone si vedeva Chiara dietro che era seduta appunto su questo divano e poi ad un certo punto si è rivolta a sua madre dicendo mamma mamma e Luciana risponde in tono abbastanza scocciato cosa vuoi da me cosa vuoi da me quindi per ben due volte quindi presumo che in casa la tensione sia abbastanza alta comunque Chiara decide di aprire un'altra live e dice che si è arrivati oltre lo stalking ci tiene a sottolineare che fate è ingrassata dice che è lievitata che ha messo su almeno 10 chili dice che è anche imbruttita continua dicendo che la postazione che ha organizzato Fate quindi il computer il microfono la sedia insomma tutte queste cose dice che lo ha comprato con i soldi della monetizzazione su YouTube che ha raccimolato diffamandola invece doveva investire quei soldi per suo figlio ecco comunque dice che a noi non deve fregare nulla della loro auto ecco perché loro non volevano farcela vedere perché in giro ci sono tutti questi pazzi Fate dice che deve smetterla di fare del bollismo dovrebbe cercare di fare i suoi contenuti ma sa perfettamente che insomma poi non la guarderebbe più nessuno quindi dice che deve curarsi perché pensa costantemente a lei inizia a dirle che è una squilibrata però presto starà zitta quindi la zitterà dice anche che presto 5 canali di scolo verranno rasi al suolo che quindi ha una sorpresona in serbo perché insomma tutta questa ossessione nei suoi confronti non è normale poi dice che sulla macchina non ha detto nulla di nuovo Fate è vero sì lei ammette che è un euro 3 quindi non un euro 4 però dice che può circolare ancora per un anno o due ci conferma che il bollo è stato pagato dal vecchio proprietario e che quella insomma non è una macchina d'epoca poi continua dicendo che Fate dovrà rispondere di molte cose che quello che ha fatto è uno schifo quindi inizia a dirle che è una sfigata inizia ad entrare anche nel suo privato dicendo che è una è cresciuta in una famiglia disfunzionale con i principi di essere una stronza dice che è simile a suo padre che era un violento se non insomma peggio di lui e quindi appunto inizia ad entrare in questioni un po' familiari ecco personali dice anche poi ad un certo punto che Fate parlava male di suo marito in alcuni forum che quindi dice che è una donna infelice perché non è considerata da lui e poi inizia ad offenderla ancora dicendo che è una bifolca una buzzurra una cagna la chiama contadinella insomma chi più ne ha più ne metta ecco ragazzi la live si chiude in questo modo tutto qua che dire allora ragazzi come al solito in questa parte di youtube ne succedono di ogni allora io ho notato che Chiara nell'ultima live voleva apparire tranquilla ma secondo me dentro di sé stava davvero per esplodere era incazzata nera cioè è palese ormai che lei non riesce più a reggere questo confronto con Fate cioè perché viene sempre sgamata è inutile no? ogni volta le sue bugie vengono portate a galla e nulla ragazzi voi fatemi sapere se avete assistito a tutto questo show fatemi sapere cosa ne pensate io ancora devo leggere i vostri commenti sotto il video di ieri ma lo farò presto intanto io vi auguro buon weekend vi saluto e vi mando un bacio